Sì, sì, sono a metà fermo perché mi si è svitato il carro, si è svitato il carro, vengo su con le chiavi adesso, vengo su con il bombolone, arriviamo, siamo qui sotto, ti aspetto qua, si, si è svitato il carro, come il carro? Arriviamo col tre caballacche! Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, il proprio mano è caduta, ma l'atterraggio. Benvenuti al suina show, arriviamo col tre caballacche! Let's go! Tre caballacche! Tre caballacche! Tre caballacche! Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS Grazie per la visione